Seminare la divisione, seminare l'odio con le chiacchiere è una malattia che ha contagiato anche la Chiesa mentre Gesù ci insegna la pace e la riconciliazione. Così stamani Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. In un mondo dove tanto spesso si sente parlare di guerre e di odio, ognuno dovrebbe preoccuparsi di seminare pace e non zizzania, un cammino che ci rende santi. Io penso, cosa sono le chiacchiere? E niente, dire una parolina contro un altro, o dire una storia, questo ha fatto... No! Fare chiacchiere è terrorismo, perché quello che chiacchierà è come un terrorista che butta la bomba, se ne va, distrusce, con la lingua distrusce, non fa la pace. Ma è furbo, non è un terrorista suicida, no, no, lui si custodisce bene. Versando il proprio sangue, Gesù ci ha riconciliato col Padre, ci ha perdonato i peccati e ci ha dato la possibilità di avere pace nelle nostre anime. Per questo, ha rimarcato il Pontefice, se noi possiamo fare il sacrificio di trattenerci dal seminare di visione. Ogni volta che mi viene in bocca di dire una cosa, che seminare zizzania e divisione, sparlare di altro, mordersi la lingua. Io vi assicuro, eh, che se voi fate questo esercizio di mordersi la lingua invece di seminare zizzania, in primi tempi si gonfierà così la lingua ferita perché il diavolo ci aiuta a questo perché è il suo lavoro, è il suo mestiere dividere.